Non sarò al festival di Sanremo. Io super ospite? Sono Balle. Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo. Con queste parole Checco Zalone, intervistato ai Lunatici, la trasmissione notturna di Radio 2, spegne il rumor circa il suo coinvolgimento nella prossima edizione della Kermesse musicale. Tutto è nato quando, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, Claudio Baglioni aveva dichiarato avremo ospiti cantanti e ospiti autori, Ora siamo un trio ma potremo diventare un quartetto, come il quartetto Cetra. Stiamo pensando a diversi tributi e Claudio Bisio, che lo affianca insieme a Virginia Raffaele, aveva fatto intendere che il quarto personaggio potesse essere proprio Zalone.Festival di Sanremo 2019, perché Checco Zalone non ci sarà ora, però, è il comico in persona a precisare sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Ma, se non mi rapiscono, il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Punto non sarò al Festival di Sanremo. Io super ospite? Sono balle. Non ho il coraggio di andare all'Aristola, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare? Ai lunatici Checco Zalone ha anche parlato di se sono timido, restio a rilasciare interviste, non perché sia snob ma perché penso che il pubblico meriti delle risposte interessanti. Spesso pensano che la mia sia una strategia, che non rilascio mai dichiarazioni o interviste perché sono uno snob, ma non è così. Se non ho cose interessanti da dire, che parlo a fare?